Noi siamo stati presi in giro da tre secoli, da quando è nata la Banca d'Inghilterra, cioè dal 1694, quando è nata la Banca d'Inghilterra e la sterlina, cioè la prima moneta nominale, è nata la prima grande truffa della storia, perché i popoli sono stati trasformati da proprietari in debitori del loro denaro.